Musica Anche per la porta sono disponibili più o meno le stesse caratteristiche delle finestre Per inserire una porta, sempre menu architettura, gestione delle porte Anche qui la prima cosa che ci compare è la possibilità di andare a settare quelle che sono le proprietà Stesso discorso per quanto riguarda la visualizzazione della porta Quindi posso rapidamente visualizzare la mia porta anche in tridimensionale Quindi se cambio lo schema della mia porta in automatico posso vedere come si presenta Posso ruotarla, posso fare uno zoom eventualmente prima di andare ad inserirla Quindi vado a scegliere quelle che sono le proprietà dell'architrave Quindi nell'architrave trovo l'altezza del davanzale così come per la finestra E poi vado a scegliere il tipo di porta che voglio inserire Doppia porta simmetrica, simmetrica, scorrevole, a soffietto o porta garage Prendo per esempio una doppia porta simmetrica e vado a scegliere lo schema della porta Quindi non so, diciamo che vogliamo inserire un portoncino di ingresso Lo scegliamo, ok, si presenta in questo modo Quando sono convinto, insomma posso modificarne tutti i parametri Dopodiché ovviamente posso modificarne i parametri e salvarlo come modello Così da averlo sempre poi a disposizione con le misure che ho inserito Dopo che ho modificato i parametri faccio ok E anche qui sono pronto per andare a scegliere il punto di aggancio del mio portoncino Ecco, se mi sposto già sul muro vedo che il punto di aggancio è la spalletta destra Al limite posso spostare il punto di aggancio E' chiaro che ha cambiato il punto di inserimento o la mezzeria per poterlo rapidamente inserire Come per la finestra, anche per la porta è possibile dare un punto di riferimento Quindi non so, scegliamoci la spalletta destra Prendo, schiaccio su punto di riferimento E vado a selezionare come punto di riferimento questo angolo, questo spigolo Ora gli devo dare la distanza da quel punto Quindi mi sposterò verso sinistra di, non so, 15 cm in bio Ecco che la porta viene inserita in 2D ed anche in tridimensionale Eccola qui, anche in 3D adesso è possibile fare uno zoom per vedere come è stata inserita Ovviamente anche dopo averla inserita posso cliccare una volta o due volte sulla porta Per accedere alle proprietà e andare per esempio a cambiare delle informazioni Tipo i parametri di posizionamento come l'altezza del davanzale E tante altre informazioni direttamente all'interno della porta Ovviamente nella rappresentazione se schiaccio su mostra descrizioni Posso anche andare ad eliminare una serie di informazioni Dell'etichetta che viene posizionata di default Quindi dimensione del testo, centimetri, metri, eccetera, eccetera Telaio dell'etichetta, etichetta stessa, riga di descrizione e quant'altro Per caso mai avere un disegno, preferisco avere un disegno pulito